Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Una ricca discendenza. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. I santi padri ci hanno offerto il seme vivo dell'educazione e con questo sacro rito raffinato hanno donato seme di passione e hanno creato una discendenza viva e coltivato nel tempo una cultura attiva, sacra e al giusto contesto. Quindi una ricca discendenza è stata quindi sapientemente resa possibile grazie all'uso dell'educazione, all'uso della cordialità con calma, perseveranza, pazienza, con tutte le qualità positive che sono racchiuse nella saggezza noi abbiamo ricevuto un insegnamento tale da poterci tramandare nel tempo e quindi conservare certi valori forti e ricchi di significato. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Una ricca discendenza. I santi padri hanno offerto il seme vivo dell'educazione e col fare sacro e raffinato hanno donato seme di passione. Una discendenza viva ha coltivato nel tempo una cultura attiva e fervida al giusto contesto. Una sacra discendenza ha donato ricca speranza e in ogni ricca circostanza ha offerto degna saggezza. La saggezza insegna il vero e santo andamento e tanta gente consegna al suo reale giovamento. Grazie, spero la condividerete a tutti. Grazie